Ciao ragazzi come state? Spero benone! Spero veramente benone! Che novità vi dico? Che ho rifatto il tampone e sono ancora positiva! Devo aspettare il giovedì prossimo per... spero diventare negativa! Ma che capelli che ho ragazzi e ragazze! Vabbè, non guardate i miei capelli che oggi sparano e non c'è niente da fare e cerco di tirarli giù e sparano lo stesso! Quindi, cosa faccio? Lì li schiaccio con gli occhiali! Niente, i capelli che sparano! Allora, niente da fare, sono elettrici! Vabbè, è l'effetto covid! No, vabbè, comunque devo aspettare il giovedì prossimo ancora! Quindi terza settimana bloccata da sanissima perché non ho nulla qui dentro! Vabbè, no comment! Oggi praticamente questo video parla dell'olio di NEM ed è dedicato in primis a Michela Di Buono, una nuova iscritta! Michela, grazie mille per la tua richiesta, per il tuo input! Parlo appunto dell'olio di NEM, come mi hai chiesto tu! Questi capelli che... anzi, dovrò usarlo l'olio di NEM sui capelli, poi vi spiego perché! Intanto vi dico, se un pochino vi piacciono i miei video, se vi interessano i temi che tratto, se non vi dispiace proprio io come li tratto, come parlo, i miei capelli come si sparano e così via, fate una cosa, mettete un mi piace e magari iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campanellina in modo tale che ogni volta che carico un nuovo video voi siate aggiornati e vi arrivi praticamente... no vabbè, ma io non ce la fai, allora lo tengo così, ok, faccio il video così, vedete che rimane? Vabbè, se cliccate sulla campanellina verrete avvisati ogni volta che pubblico un nuovo video Allora, cara Michela Di Buono, benvenuta! Quest'olio di NEM, cos'è? E per cosa? Più che altro è un olio, quindi essenziale, vegetale, naturale, ma perché? Cosa serve? Perché usarlo? Va bene? Allora, innanzitutto, se vogliamo usare l'olio di NEM, dobbiamo assicurarci che sia puro ce ne sono tanti in commercio, alcuni non sono puri Allora, non ha un ottimo odore, sa un po' di aglio quindi quando lo comprate, se ne trovate alcuni profumatissimi, c'è qualcosa che non va perché quello puro sa leggermente di aglio e non è buonissimo come odore è anche molto scuro marroncino scuro verdastro, quindi anche quello dovete vedere se è puro è appunto scuro e di questo colore è utilizzato, viene utilizzato sia per la pelle come fortissimo idratante e antiossidante che per i capelli i capelli per determinati scopi, praticamente capelli secchi sfibrati, doppie punte allontana i pidocchi probabilmente anche per questo odore molto forte è curativo per la forfora e comunque idrata tantissimi capelli ed è fantastico, ripeto, per le doppie punte o per le punte sfibrate quindi per la secchezza dei capelli per quello che riguarda invece il discorso della pelle è veramente ricco di vitamina e di acidi grassi essenziali ed è quindi un ottimo antiossidante allora io lo utilizzerei principalmente come idratante molto forte per la pelle se poi vogliamo che le proprietà antiossidanti siano più accentuate o vogliamo accentuarle cosa facciamo? aggiungiamo 2-3 non di più gocce di olio di ricino a questo olio di neem e abbiamo anche una proprietà che può aiutarci per combattere le rughe già esistenti e prevenirne altre solo l'olio di neem è fantastico come idratante della pelle e idratante anche per i capelli punto secchi lo consiglio sì, lo consiglio nel senso che è un buon olio ripeto, ha un odore veramente oddio, adesso, sgradevole a me piace anche però io adoro l'odore dell'aglio però ovviamente non è un odore fantastico perché quando voglio uscire uno vuole andare in giro se sa di aglio la pelle che sa di aglio sapete com'è, no? quindi magari si mette e poi sopra si sopra non insieme sopra si aggiunge una crema sempre idratante profumata oppure una protezione solare profumata che copre maschera e cancella l'odore di questo olio che invece è messo sotto è un fortissimo idratante spero di essere stata chiara Michela chiara nel senso esaustiva fammi qualsiasi tipo di domanda comunque ottimo spunto perché l'olio di neem è veramente buono ripeto come idratante è fantastico quindi può essere utilizzato tutti i giorni sulla pelle e per i capelli se si hanno dei capelli veramente secchi con doppie punte capello sfibrato e si vuole rigenerare tutte le volte che laviamo i capelli al posto del balsamo possiamo utilizzare l'olio di neem che poi però deve essere ben ben riciacquato oppure prima di farci lo shampoo ci facciamo un impacco con l'olio di neem e poi facciamo shampoo balsamo crema e poi ci asciughiamo i capelli è fantastico quello si a livello di idratazione è veramente veramente un buon olio ok? un bacione a tutti ricordatevi iscrivete al canale campanella fate quello che volete un bacio grandissimo e alla prossima grazie mille perché vi iscrivete perché siete qui perché mi seguite nonostante sia una folle che oggi ho i capelli che non chi se ne frega ciao ciao